Il negozio si chiama Bikesa ed è un franchising, l'abbiamo scelto in mezzo a tanti altri franchising perché proprio ci è piaciuto le proposte che ci facevano. Abbiamo prodotti analergici, collano, orecchini, fular, anche delle borse, bracciali, c'è una vasta gamma di scelta, vestiamo la teenager, la signora, quella che è anche un po' più particolare, abbiamo come ripeto una vasta gamma. Bikesa prende il nome da una strada della Spagna dove appunto all'epoca venivano creati proprio questi prodotti manualmente ma noi abbiamo anche una produzione italiana, appunto Made in Italy che è la nostra. In questi prodotti c'è molta qualità comunque, non è la bisiotteria quella che la mette, che si annerisce o che si rovina facilmente. Il prodotto è di ottima manifattura, come ripeto è analergico quindi si sa che di questi tempi si soffre molto di allergia quindi è stata proprio una scelta di cercare un prodotto che non facesse male. E questo è lo più al fine, e poi abbiamo quelli colorati. Il prodotto è un prodotto che non facesse male.